Il Servizio Sanitario Nazionale nasce oltre 40 anni fa con l'obiettivo di garantire a tutti i cittadini italiani un uguale livello di assistenza e diritto alla tutela della salute. Oggi le crescenti disegualianze e la diversità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie mettono a rischio questo diritto fondamentale. Per questo è necessario che tutti noi ci si attivi al fine di garantire il reale rispetto in tutto il territorio nazionale della tutela della salute individuale, uguali diritti in tutto il territorio nazionale, uguale possibilità di accesso ai servizi sanitari. Affinché questo accada anche io ho ritenuto opportuno supportare la proposta di cittadinanza attiva di inserire nell'articolo 117 della Costituzione il riferimento, il diritto alla tutela della salute dell'individuo. Perché veramente è importante che la salute sia uguale per tutti. Per fare questo aiutaci anche tu e per supportarci vai al sito www.diffondilassalute.it e scopri come aiutarci.